Installazione dei nuovi lampioni della pubblica illuminazione nelle strade di Battipaglia. Dopo aver ultimato le installazioni in una parte della strada di Via Baratta, ieri gli uomini della Dervit, la società di Rocca d'Aspide che il 27 luglio ha stipulato il contratto per i lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria finanziati con i fondi del programma integrato Città Sostenibile, l'azienda si era giudicato i lavori da 2,5 milioni di euro del primo progetto, ma ora con altri 1.600.000, dopo la rimodulazione del progetto dovrà occuparsi pure di buona parte delle strade provinciali 312 e 135 e della Ditorania e quindi hanno iniziato ad installare i lampioni sul versante destro in direzione Eboli e il lato più vicino alla ferrovia di Via Paolo Baratta, la strada che taglia in due una parte del centro e tutto il rione Sant'Anna. E così il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Ingegnere Capo Carmine Salerno, ha ordinato il divieto di fermata dalle 7 alle 18 fino al prossimo 2 settembre, dal Civico 2 al Civico 26.